ciao a tutti ghiaccioli e bentornati in un nuovo video allora ragazzi oggi siamo qua nel mio andro per ricordarvi che stasera dalle otto e mezza alle undici e mezza sarà presente sul nostro canale la live di rainbow six siege saremo assieme a faller box luna e qualcun altro adesso si vedrà chi si potrà invitare inoltre ragazzi parliamo un attimo di rainbow six siege o meglio parliamo un attimo della situazione rainbow e frost ed una allora ragazzi molti di voi ci hanno chiesto ma frost ma con la calippo frost ma phantom ritorna frost ma crema allora ragazzi siamo ad un punto morto cosa vuol dire vuol dire che i ragazzi si sono spostati da rainbow ad altri giochi ed è poco il tempo per ritrovarsi ed è un po un casino il tempo per ritrovarsi perché a volte quando chiedo a phantom se vuole venire live eccetera è fuori al lavoro comunque i suoi problemi e quant'altro e quindi non si può fare tanto ragazzi inoltre diciamo i tostapane sono una non sono una squadra sono insieme di youtuber che appunto portano i loro contenuti tutti assieme in un'unica live per farvi divertire il frost e la luna non hanno una squadra non hanno un clan non hanno una squadra fissa se io dovessi appunto riassumere la nostra squadra conterebbe una ventina di persone il che vorrebbe dire tutti gli ex membri della calippo i nuovi collaboratori youtube fuller soprattutto ragazzi che non vi nascondo che mi sto dando veramente una grossa mano durante le live ma soprattutto è una persona veramente fantastica perché comunque appunto è sempre con noi in più i ragazzi di rainbow six italian community in più i nuovi collaboratori ragazzi sarebbe tantissime persone e non possiamo suddividerci con tutti quindi non ci abbiamo una squadra fissa è per quello che tutte le volte cambiamo e per quello che a volte c'è uno a volte c'è l'altro non c'è una squadra fissa ragazzi quindi alcune domande potete anche tra virgolette non farle perché appunto vi sto dando le risposte un'altra cosa ieri sera appunto con luna fuller box e qualcun altro abbiamo incontrato il clan degli space da quello che ho capito ed è stata abbastanza combattuta anche se alla fine abbiamo perso il problema non sta nella perdita il problema sta appunto nella nella maturità di uno dei membri che mi è venuto a cercare su instagram e mi ha fatto i complimenti per la giocata e mi ha comunque fatto mi ha fatto ricordare che erano appunto contro di noi che avevano vinto però comunque che si era divertito era un sogno per lui aver giocato contro di noi o con noi dipendentemente e questo mi dà un minimo di barlume di speranza inerente alla situazione community di rainbow per quelli che mi conoscono veramente per comunque conoscono il canale sanno benissimo quanto a me mi stia sui coglioni la comunità di rainbow non rainbow in sé come dico sempre sono i i giocatori che rovinano i giochi non i giochi a rovinare i giocatori e molti di voi lo sanno quindi vedo un barlume di speranza in questa community perché comunque c'è gente comunque matura non c'è solo gente che gioca la coda e poi ti offende o se vinci ti offende o ti dice degli scassoni quant'altro esiste ancora tra virgolette la cavalleria esiste ancora il voler giocare come persone mature ed è questo il pregio appunto di questi ragazzi che ringrazio e comunque sono un buon clan sono sono bravi per quanti anni abbiano eccetera perché comunque ho visto che l'immaturità tra virgolette sulla community di rainbow principalmente è sui minorenni ovviamente poi vabbè questo non è un'offesa ma è semplicemente un dato che ho riscontrato appunto varie volte detto questo ragazzi spero di avervi detto tutto quanto spero che vi abbia quanto minimo risposta alle domande che vi stavate facendo vi ringrazio avermi ascoltato ciao ragazzi e buon proseguenti giornata